Un cavallo? E' un cavallo? Ero un gufo! L'hai indovinato? Io ero concentratata al gufo con te E' un cavallo? E' un cavallo? Ma dove l'avete? C'è un cavallo secondo te? Può avere quella forma? Sembrava il muso del cavallo E ragazzi come va? Io sono FeriNiki E io sono Steph e questo giro chiama Quick Draw Ovvero un sito creato da Google In cui avremo 20 secondi per disegnare Quello che ci viene proposto Ci sarà un'intelligenza artificiale che cercherà Di riconoscere i nostri disegni E ovviamente il nostro obiettivo sarà cercare di far riconoscere A questa intelligenza artificiale Tutto quello che disegniamo E' super fantastico abbiamo visto dei video internazionali A riguardo e sembra troppo divertente Sei pronta? Siamo muniti di tavoletta grafica Facciamo vedere se riesco a sollevarla FeriNiki sa utilizzare e io no Quindi ci sarà da divertirsi anche sotto questi punti Sarà duro riuscire a far indovinare quello che disegneremo Guarda che intelligente, è più intelligente di noi Vado? Ok, ok, vai, vai Allora, che cos'è un Twitter? Google è un maglione Infatti avevo intuito, avevo intuito Andiamo, andiamo, andiamo Allora, un maglione secondo me Hai 20 secondi, in alto vedete il tempo Mancano 15 secondi Ok, ok, mi sta piacendo Mi sta piacendo Sì, 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 sì Adesso devi cercare di farli capire Ok, ce l'ha fatta E vai Bravissima Paracadute Paracadute semplice, vai Sì, è facilissimo Guarda che è difficile disegnare comunque in così poco tempo La cosa più complicata E lo so Brava Sì Adesso è usato Così E sembra Ok, ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Ma sei disgraziato Te l'ho detto che è intelligente Ma non mi danno anche il tempo di disegnare Cioè, io mi ci sto impegnando a fare anche i dettagli Invece mi fa Paracadute Questo robotino è più intelligente di noi secondo me Vai Torre Eiffel Allora Allora Questa è ancora più semplice di prima Vedo una gamba Delle linee No, ti vado in difficoltà Scrivi Ce l'ha fatta Io guarda Era bruttissima Ma come è possibile Io non l'avrei mai riconosciuto Allora, tutto mi puoi chiedere di disegnare Ma non la torre Eiffel Come accidenti La devi disegnare in 20 secondi Mi è venuta in mente una cosa geniale Possiamo fare il gioco nel gioco Praticamente dopo Io non guarderò che te mi sono E cercherò di indovinare Assieme all'intelligenza artificiale Che cosa stai disegnando Così vediamo chi è più intelligente Tra Steph e un robot Ok, ci sto, ci sto Poi senza contare Che abbiamo qua una prolunga Quindi potrò disegnare anche Steph Potrò disegnare anche Steph Tutto fatto apposta Vai Facile la porta Beh, secondo me è proprio questa 5 secondi infatti Boom Mamma mia Pianoforte Ma ce la puoi fare Ce la puoi fare Aspetta, aspetta, aspetta Fammi pensare Fai la cosa dei tasti E poi Faccio la tastiera e basta Ho tutto il piano No, falli la forma Però poi ti concentri sulla tastiera E vabbè Allora, aspetta Facciamo una cosa del genere Secondo me Ok Questi ovviamente i piedi Sì I piedi Queste dove metti gli spartiti E facciamo i tasti Io direi Tutto smart Tutto veloce È in difficoltà È in difficoltà Non ce la fa Non ce la fa Non ce la fa Non ce la fa Troppo pronto A un secondo Dalla fine I tastini hanno dato Quel tocco di classe Allora Poscar Cosa dovrebbe essere Cartolina Sì Io faccio una cartolina Vai Ce la puoi fare Allora La cartolina Facciamo il retro Che è più semplice Facciamo così Io non avrei L'idea Allora Qui è dove si scrive Mamma mia Ma che cos'è Ma è troppo intelligente E anche mi hai fatto finire Di disegnare Ma non è giusto Allora Facciamo un riepilogo Dei miei bellissimi disegni Ok Secondo me La Torre Eiffel È la migliore No Non credi Ho il piano Torre Eiffel È pieno forte Sto raccontendo Insomma Allora Qua noi praticamente Dovremmo Anche Mi lasci il comando Vai 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 Vedi Lui ti dice Tutte le cose Che ha pensato Vedi Lighthouse Perché poteva essere Fatta così Ma questo che cavolo è Una bottiglia di vino E poi qua vedi Altre persone I loro disegni Vedi Guarda E poi pensavamo Che l'avessi disegnata male Solo io Ma Guarda questo qui sopra Che cos'è Ha avuto qualche difficoltà Sto raccontendolo Con la mia bruttezza C'è da dire Secondo me la cosa migliore Era fare una cosa come questa Che è semplice Semplice Per scrivere Parigi A fianco Ho preso Eiffel Vabbè Così non vale Molto più easy Molto più easy Poi ad esempio possiamo vedere Cosa ne so Qual è stato quello che hai trovato più difficile Il piano Il piano è stato difficile Ok Vedi Pensava a un passaporto Non so come Il dresser però Il dresser ci stava Ci stava Guarda gli altri piani Questo è bellino Eh sì è carino Questo è bellino Guarda questo Guarda Questo qua Sembra la dentiera Questo è veramente Sono io che faccio un pianoforte Ho questo Il fatto è che Allora se avessi tutto il tempo che vuoi Eh certo Ci riesci anche Ma in 20 secondi Devi essere veloce E farlo più semplice possibile Guardate i consolini E questo qua E allora È più difficile Non ce la farò mai Non ce la farò mai Comunque dopo questo primo disegno Non guarderò cosa sono i temi E cercherò Di indovinare insieme Al robot Ok Ok non è male Non è male Fargli le ruote Esatto Io pensavo così Ce l'ha fatta Ce l'ha fatta Aspetta che non guardo Ok Ok vai ci sono Ci sono Sai già che cosa è il prossimo Sì sì vai Ok vado Ok Allora una nuvola Della pioggia Ho azzeccato Ok ok Non riguardo Ok ci sono Ci sono Allora Allora Ok Non ho idea Una scarpa Una gamba Una gamba Ma non ce la faccio Ma glielo spiego Che è una gamba Ok però la Steph È più intelligente di un robot Mettili l'acce alle scarpe Piaciuta Ti vedo malissimo stavolta Allora Io non so come puoi faccia Sono una persona molto intelligente Sì Questa è l'acqua Perché sta in acqua Ok E facciamo Allora Allora Dieci secondi Sì sì Così Ok E poi l'aereo qua Che sta atterrando Mi sembra una buona cosa E questa è l'esplosione Di quanto atterra Dieci È impossibile Questa cosa È impossibile Dai era troppo difficile No dai Cioè è una porta aereo Ma non so neanche Com'è fatta nella realtà Ma che mi chiedete Vedremo le altre persone Cosa hanno provato a fare Benda È perfetta E mi dice tazza No Non ce la faccio Mi arrendo È troppo difficile Non ce l'ho fatta neanche io Però dai Apprezza Allora Ne abbiamo fatte azzecare Tre Questa volta è stata Molto più difficile Allora Io voglio vedere Le gambe Le gambe Cioè guarda Dimmi che non sono quelle le mie Dai Non era così diverso Perché me l'hai indovinato Non lo so Cioè guarda Non è proprio così difficile Cioè così diverso Ehm Sai che cos'è Ho bisogno di Sì 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 Ok posso guardare Sì Ok Oddio non so come fare Allora una casa No aspetto Ho sbagliato Eh come si cancella Eh È lì Ok vai Ok aspetta Ehm Così Così Una rotella Un carro armato Fatto E l'hai indovinato È una formica Sono rimasto talmente Tanto perplesso Che ho letto Quello dopo Allora Dai ma non Ditevi leggere Una formica È una bocca Bellissima Ok Vai sono stato attentissimo Ok vai 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 Allora Vediamo Devo batterlo Sperare 1 a 0 È un albero Un lampione Un cartello Ce l'ha fatto prima di te Cos'era Ciuppa ciuppa Lollipop Ma come l'ha fatto Mi sta sorclassando Io Sono molto scarsa Ti conviene usare mouse e tavoletta Ehm Aspetta devo googlare che cos'è Guardate perché così Ferinichi non saprà che cos'è Non so come farlo Non so minimamente È iniziato Eh no aspetta Adesso parto Ok puoi guardare Vai vai Allora Vediamo se Cosa è una tavoletta Tu non hai ancora nessuna idea Che cavolo dovrebbe essere Ah la cucina gas Sì Ce l'ha fatta anche lui Vabbè li vedo dai E comunque guarda che Cioè c'è scritto anche in alto Alla fine mi sto rendendo conto che appare anche lì Io non l'avevo mai visto Yeah Stavo facendo un omino Luna Luna Eh luna è facile Eh ma la luna come faccio Tonda con i crateri Tonda con i crateri È un po' più grande falla dai Ma non ce la fa L'hai messa in difficoltà È talmente Non è una faccia È la luna Eh ma se ci pensi hai fatto una faccia che sorride Cioè senza volerle hai fatto una faccia che sorride Avrà ragione a vedere la smiley face Dai vai 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 Non è possibile Quante zampe ha la formica? Non lo so Ha le antenne Falle le antennine Vabbè Ma è schiacciata sta formica Cioè hai voluto fare la formica schiacciata Io te l'ho detto che non lo so fare Lasciami in pace Ok Ship Ma dai ma non è una scimmia Rabbit Scorpio Cut Sorry È sorry un corno Dai dimmi che non era così Dovei farlo seduto con le braccina così Sì E poi facevo la Mona Lisa Eh ma è così Terribile Non so disegnare Così l'orsetto Trumpet non so cosa sia Neanche io Eh vabbè Mamma mia che brutti Secondo me poteva riconoscere Voglio vedere la luna Perché la luna è stata abbastanza complicata Quindi voglio vedere come l'hanno fatta gli altri Ah È vero Qua non siamo stati minimamente furbi nessuno dei due Passato di nuovo a me non se la sente più disegnare Cercherò di indovinare Voglio di nuovo fare la sfida Vai Che cos'è Eh Cioè non devi dirmelo Dico siamo pronti Allora Sì lo sai Ok ci sono Vai Ci sono Ok Ok allora Delle linee Un tornado Un uragano Hurricane Sì 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 Non guardare Non guardare Non guardare Ok non sto guardando Oddio Ma è la stessa tua questa Vabbè Vabbè Allora Ok Ok Comunque ho fatto un secondo prima del Del mister bot Ok vado 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 Ci sei? Posso aprire gli occhi? Sì vai vai Sto giudiziando Allora una scarpa Un stivale E i patini I patini I patini I patini Esatto Un secondo prima di nuovo Un secondo prima ce l'hai fatta Una Un vaso Una Vasca da bagno Esatto Bravo Qua facciamo il rubinetto Un secondo di nuovo prima di lui Vado? Sì vai Molto è facile Ok Allora Eh Sì Io non vedo nulla Che Una bocca di un dinosauro Un Ce l'ha fatta prima di te Un pipistrello Un pipistrello Ok 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 Ero leggermente in ritardo Un cammello Un Che cos'è? Un'anatra Un Un pappagallo Prima c'era il signor maialino Adesso è il capitan Jeff Ma ci pensi? Che coincidenza Ci pensi coincidenza Un pappagallo Oh mamma mia Aspetta Ma come ha fatto a indovinare un pappagallo così in fretta? Ma questo non lo saprò mai fare Ma neanche se guardo immagini Vai Allora Vado Ok Allora Sì Ci sono Non ce la farò mai È sicuramente una strada No Un tavolo lunghissimo Un Un canyon Non ce la posso fare Uno scivolo È uno scivolo? No È dalla prospettiva sbagliata Che cos'era? La muraglia cinese Vabbè ma perché l'hai fatta dall'alto? Vai Pronto? Sì Prontissimo Devo batterlo il robotino Ok No non ci sono Ce l'ho fatta prima di te Che cos'era? Lo chiama Flying Saucer Ed è l'UFO Ok L'UFO Ok Io ancora pensavo a una tavola rotonda Ok qua ci sarò Quindi figuriamoci vai Allora così Un cerchio Un pallone Delle rotelle Cos'era? Un braccialetto Un braccialetto Lo indovina prima di te Ma quando mai un braccialetto? Tutti i pendenti del braccialetto Ma guarda Ma fatta che sei uno scarsone Cioè stai perdendo contro un pc Stai perdendo contro un pc È davvero intelligente Tutti animali È l'ultima sfida Vai Ultima sfida contro il computer Allora Mamma mia Come accidenti lo faccio io questo Ok Come accidenti Una montagna No mi è uscito malissimo Mi è uscito malissimo Un cavallo? È un cavallo? Era un gufo L'hai indovinato Io ero concentrata a fare il gufo Con te È un cavallo È un cavallo Ma dove la metti? C'è un cavallo secondo te Può avere quella forma? Un cavallo Il muso del cavallo Sì ma quella V Era il becco Ovviamente Cioè scusami Io direi che non ci sono dubbi Allora io voglio vedere La muraglia cinese Perché adesso Vai giù Vai giù col mouse Ok scusami Cioè voglio vederla Come è possibile Cioè ma erano tutte terribili Guarda Questa ho avuto la mia idea Di provare a farla di lato Questa è bellina Questa è bellina Ma no è un muro Quello Non è la muraglia cinese La muraglia cinese Volevo vedere il senso Che era lunga Capito? Ci deve arrivare Ci deve arrivare Mister X Comunque una cosa Se capite Robottino Migliore di Steph Proprio senza dubbio Indovina anche più Mie cose rispetto alle tue Mi ha surclassato Mi ha surclassato In tutti i sensi Una roba incredibile Guarda Ci sono rimasto malissimo Comunque sì Solo la muraglia cinese Altrimenti avresti fatto Un'altra 6 di 6 Peccato Comunque è davvero divertentissimo Questo sito Se volete andare a provarlo Semplicemente scrivete Quickdraw su Google E trovate il sito Vi lasciamo il link Non facciamo i pigri Vi lasciamo il link In descrizione Mi sembra una cosa giusta E ci fermiamo così ragazzi Beh ragazzi Vi lasciamo il video Se siete giusti Sentici un like E se è la prima volta Che vi vedete il nostro video Potete continuare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao ciao Alla prossima Grazie per la visione!